Amici sportivi di novantesimo minuto, benvenuti a questa nuova serie della nostra rubrica. Un saluto particolare agli spettatori americani che attraverso il canale Rai USA seguono in diretta da New York e New Jersey questa nostra trasmissione. Un saluto a tutti coloro che la seguono con altri mezzi da altri paesi. Dunque il campionato è cominciato, è cominciato con grossi motivi di interesse. L'inizio delle partite è stato guardingo si può dire, basta considerare che la prima rete è venuta fuori in Serie A dopo quasi 25 minuti di gioco. Poi qualche fuoco d'artificio di gol nelle finale. Colpisce subito un risultato, il pareggio colto dalla matricola Lecce sul campo dei campioni d'Italia del Verona. Poi altri risultati interessanti, la nuova Fiorentina che prevale di slancio sulla quotatissima Sampdoria. L'Inter subito un gol dal Pisa nel primo tempo si è rovesciata all'assalto della ripresa segnando tre reti, una doppietta di Rummenigge. Vince la Roma a Bergamo e il Milan a Bari e sono risultati significativi. La Juventus regola di stretta misura l'Avellino, il Napoli fa suoi i due punti sul Como. Pari fra Udinese e Torino, evidentemente hanno avuto la meglio le difese e c'è stata anche qualche occasione mancata. Un brevissimo commento a caldo, le partite sono terminate circa mezz'ora fa, si può subito fare. Hanno prevalso le squadre più quotate, senza tener conto del fattore campo in molti casi che ora ha un valore molto relativo. Le sfavorite dal pronostico però si sono in complesso ben comportate, anche quelle che hanno subito la sconfitta, cercando una certa logica di gioco, diciamo così, senza gettarsi allo sbaraglio come era successo altre volte nelle prime giornate di campionato. evidentemente si fa subito attenzione al punto che si cerca di ottenere magari con un pareggio, anche se non ci si riesce. Eccezione alla regola del più forti che prevalgono è stato, come detto, il pari subito dai campioni d'Italia del Verona da parte di un intraprendente Lecce sul terreno proprio di Verona. Qualcuno potrebbe anche mettere in bilancio la sconfitta della Sampdoria a Firenze, ma i Viola, nuovo corso, possono a buon diritto essere considerate fra le squadre alla pari con le migliori di tutto il campionato. E vediamo insieme la schedina. A Bergamo Roma batte Atalanta 2 a 1, 2. A Bari Milan batte Bari 1 a 0, 2. Fiorentina batte Sampdoria 1 a 0, 1. Internazionale batte Pisa 3 a 1, 1. Juventus batte Avellino 1 a 0, 1. Napoli batte Como 2 a 1, 1. Udinese e Torino 0 a 0, X. Verona e Lecce 2 a 2, X. In serie B in schedina Cagliari batte Cremonese 1 a 0, 1. Gol di De Rosa sul rigore. Catania batte Brescia 2 a 1, 1. Hanno segnato Pellegrini, Gentilini e poi non c'è pervenuto il nome del marcatore della vittoria del Catania. Cesena batte Ascoli 1 a 0, 1. Agostini il realizzatore. Lazio batte Palermo 2 a 1, 1. Gol di Podavini, Guerini e Fiorini. Pescara batte Bologna 2 a 1, 1. Hanno segnato per il Pescara, Ronzani e Roselli. Non è pervenuto il nome del marcatore del gol bolognese. Altre di B. Genoa batte Campobasso 2 a 0, reti di Tacchi e Mileti. A Monza vittoria del Vicenza. Vicenza batte Monza 1 a 0. Ha realizzato Lucchetti. Perugia e Catanzaro 2 a 2. Cozzella, Gregori, Pagliari, Piermarini. I goleador. San Benedettese ed Empoli 1 a 1. Per l'Empoli ha segnato Zennaro. Non abbiamo il nome del giocatore che ha pareggiato nel secondo tempo nel finale per la San Benedettese. Triestina batte Arezzo 2 a 1. Hanno realizzato Cinello sul rigore. Ugolotti e Cerone. E adesso le classifiche per quanto riguarda la Serie A. A punteggio pieno ovviamente dopo una giornata. Quindi 2. Internazionale. Fiorentina, Juventus, Napoli, Milan e Roma. Poi le squadre che hanno pareggiato. Lecce, Torino, Udinese e Verona. 1 punto. E poi quelle che hanno perso. Atalanta, Bari, Avellino, Como, Pisa e Sampdoria. 0 punti. Ora la classifica della B. Cagliari, Catania, Cesena, Lazio, Pescara, Genoa, Vicenza e Triestina. Si sono subito messe in luce con 2 punti. Perugia e Catanzaro. Partita molto combattuta fra due favorite del torneo. Terminata in parità. Quindi Perugia 1, Catanzaro 1. 1 la San Benedettese ed 1 l'Empoli. Poi le squadre che hanno perso. La Cremonese, il Brescia, l'Ascoli, il Palermo, il Bologna, Campobasso, Monza e D'Arezzo. Vedete 0 punti. Adesso cominciamo la serie dei collegamenti proprio col pareggio fra Verona e Lecce per 2 a 2. A te Ferruccio Gard. Dunque quattro reti, tre pali e alcuni gol sbagliati per poco stanno a dire che è stata veramente una bella partita. Meno bella è stata invece la partenza dei campioni d'Italia. Mentre addirittura clamoroso è stato l'esordio del Lecce, una squadra simpatica che gioca per la prima volta in Serie A. Il Verona ha dimostrato oggi di essere a tratti sciupone, a tratti un po' distratto. E ha denunciato delle sfasature abbastanza insolite per questa squadra. Il Bagnoli dovrà ancora lavorare parecchio sui nuovi arrivati. Mentre il Lecce ha dimostrato di essere una compagine dinamica, scattante, una vera sorpresa che darà parecchie soddisfazioni ai suoi tifosi. Vi proponiamo adesso i gol e alcune azioni. Prego la regia di mandare in onda le immagini. La partenza è stata del Lecce, ma a segnare per primo è stato il Verona al ventiquattresimo con Elkier, che conclude un'azione sviluppata da Galderisi, Volpati e Verza. Ecco il bellissimo gol del danese. Il Lecce reagisce e al trentottesimo Giuliani deve uscire alla disperata sui piedi di Alberto Di Chiara. Quarantaduesimo, gialloblu vicini al gol con un pallonetto di Verza che rimbalza sulla traversa. Ripresa, il Lecce pareggia al nono con un bel colpo di testa di Alberto Di Chiara. È stato ottimo Di Chiara assieme al vecchio Causio. Ecco la rete. Campione d'Italia nuovamente in vantaggio al diciottesimo. Punizione di Ferroni per Di Gennaro. 2-1, tiro imparabile. Il Lecce pareggia nuovamente al ventisettesimo. Azione cominciata da Di Chiara, sempre lui, e palla infine a Barbas che batte Giuliani. 2-2. Al trentatreesimo, clamoroso palo dei giallorossi con Di Chiara, ancora lui. Poi al fine Giuliani riesce a parare e la partita finisce sul 2-2. Linea a Paolo Valente. Giro subito il collegamento a Gianni Vasino per il successo della Roma a Bergamo. A te Vasino. È stata l'esperienza e la bravura di Bogne a dare i due punti alla Roma sul campo dell'Atalanta. Un'Atalanta che ha giocato molto ma non è mai riuscita a concludere. Anche perché in area romanista hanno fatto buona guardia di volta in volta. I terzini, i mediani e lo stesso Bogne copruzzo di volta in volta. È stata una partita bella e piacevole. Certo, gli atalentini ci sono rimasti male. Ma vediamo insieme le azioni. Qui è Stromberg che ben lanciato da Soldà, manca di poco il bersaglio. E in contropiede va a segno per la prima volta la Roma. È addirittura geniale Bogne, lo vedete, ad alzare il palonetto per la testa di Pruzzo. È l'1-0. Reagisce immediatamente l'Atalanta, ma il tiro di Stromberg questa volta finisce sul palo e non basta. Nella ripresa ancora in avanti l'Atalanta con Cantarutti che impegna Tancredi in questo bel balzo all'indietro. Poco dopo è Magrin, il numero 9 dell'Atalanta, a tirare, ma Tancredi fa buona guardia. Finalmente l'Atalanta riesce ad andare in rete con Simonini che è entrato da poco, ma per l'arbitro è fuori gioco e il gol viene annullato. Mentre i bergamaschi guardano, sull'altro fronte, Bogne, serve Nella che spara a colpo sicuro. È il 2-0. Al quarantesimo Magrin, gran botta, palla sotto la traversa, per noi sulla linea di porta, per l'arbitro dentro ed è il 2-1 con il quale si conclude l'incontro. A te Paolo Valenti. Il Milan è passato di misura a Bari per 1-0. Vediamo se è pronto Franco Strippoli da Bari. Il solito Milan sornione che è impresso alla gara a cadenze sincopate, che nell'unica manovra di una certa consistenza, confezionata nell'arco dei 90 minuti, ha punito il Bari. Una punizione sin troppo severa per il Bari al suo esordio in Serie A, un esordio amaro, perché nel primo tempo il Bari ha evidenziato saggezza tattica e nella ripresa grandi autorità, ma proprio mentre stava producendo il massimo sforzo il Milan è andato in gol. Vediamo i momenti significativi di questo incontro. Nel primo tempo ottima la manovra a centrocampo del Bari, che è partito di slancio sulla destra a terra cenere, uno dei sette esordienti della squadra pugliese al centro, libera Paolo Maldini. Si fa notare il Milan con Wilkins, che approfitta di un errore di Cavasin, pallonetto di Wilkins, che termina oltre la traversa. E ancora il Milan in avanti, questa volta è Virdis a farsi notare, il suo diagonale termina fuori. Da Franco Baresi in avanti per Etli, che fa da Torre per Virdis, che però non riesce ad approfittare di questa incertezza del dispositivo del Bari. Nella ripresa il Bari parte in avanti, Piracini impegna Terraneo, poi è Bergossi. Ed è ancora il Bari che ha una grossissima opportunità, cross di Bergossi, Piracini però è poco coordinato e c'è Paolo Maldini che riesce a liberare. Poi bel numero di Virdis, pallonetto e tiro a volo, vola Pellicano e para. Quindi il gol del Milan, fa velo a Etli, Wilkins per Icardi, che batte Pellicano. Siamo ad 11 minuti dalla conclusione, il Bari ha una grossa opportunità a pochi secondi dal termine, ma sul cross di Sclosa, Rideau manda oltre la traversa. Su Bari-Milan è tutto, linea Paolo Valenti. Ora vediamo come sono andate le cose a Firenze. Fiorentina batte Sampdoria 1-0. A te, Marcello Giannini. Sì, ti dirò subito brevemente, è stato il grande caldo che forse ha turbato più la Sampdoria, ma io penso anche che due squadre, specialmente la Fiorentina che è fiorentina rinnovata e affidata ai giovani, il bagno di umiltà con il quale Agroppi ha affrontato il campionato con i suoi giovani, credo che possa servire di insegnamento alla Sampdoria, ai giovani più miliardari della Sampdoria che non sono riusciti a mettere in sé la difficoltà Galli, se non in un solo caso. Andiamo subito con le azioni, vediamole. Ecco appunto la Sampdoria nei primi 20 minuti, la Fiorentina sembrava soggiogata, Galli la gran parata sul tiro di testa di Vialli, l'abbiamo visto. C'è ancora un, c'è Maldera che esce ed entra ed è il debuttante, uno dei debuttanti onorati, gli altri si possono dire Berti, Lorenzo e Gelsi, i debuttanti. Lorenzo è debuttante per le file della Sampdoria. Ecco ancora la Fiorentina che preme nell'ultimo quarto d'ora del primo tempo, dopo aver, diciamo così, imbrigliato la manovra della Sampdoria, e guardate come Pari si salva alla fine di questa confusissima azione. Sarebbe stato autorete, ma Pari l'ha salvata. Siamo al secondo, sempre nella finale del tempo, c'è questa richiesta di rigore da parte della Fiorentina, un fallo da rigore, sul quale Casarin evidentemente ha sorvolato, lui era in campo, noi eravamo dall'alto, non possiamo esprimere giudizi. Ecco siamo al secondo tempo, la Sampdoria è il colpo di testa di Lorenzo, gliel'abbiamo messo perché dopo 30 secondi dall'esordio ha mandato alto questo pallone. E qui c'è l'attacco della Fiorentina ed il gol di Massaro della Fiorentina, è l'1-0. Su questo 1-0 sofferto ma meritato ti restituisco la linea. Vediamo adesso all'internazionale. Internazionale batte Pisa 3-1. Marco Lucchini. Un esordio ovviamente difficile per il Pisa ne ho promosso, almeno sotto il profilo psicologico, poiché l'Inter, secondo di più quest'anno lo squietto, può solo perderlo. A dire la verità però i toscani hanno messo la frusta in era azzurri, soprattutto nel primo tempo chiudendo addirittura in vantaggio. I pisani hanno corso molto anticipando sistematicamente i ragazzi di Castanieri, solo dalla quarta d'ora della ripresa dopo il gol del pareggio l'Inter ha controllato la situazione. Il Pisa si presenta subito al terzo minuto con Mariani lanciato da Berggren. Zenga para a terra. Al decimo minuto su calcio d'angolo di Fann, Altobelli di testa incoccia il montante. Ma è sempre il Pisa il più attivo e al ventitresimo su un pallone spiovente interviene di testa Berggren. Zenga non controlla Echift e è in ritardo. A un minuto dal riposo passa il Pisa con Armenise su cross di Baldieri. Gol contestato per un sospetto fallo di mano dello stesso Armenise. Secondo tempo, l'Inter si riprende e al decimo una punizione di Fann propizia il gol del pareggio di Berggren. Uno a uno. Al ventottesimo il raddoppio su cross di Bredi, Altobelli di testa serve Rummenigge, solo davanti alla porta vuota. Infine due minuti dopo il gol più bello della partita porta la firma di Rummenigge assistito da Marangoni. 3 a 1 il risultato finale è tutto a te Paolo Valenti. Passiamo adesso a Torino. Juventus Avellino 1 a 0. Cesare Castellotti. A Torino una classica partita da inizio stagione con Juventus e Avellino già a buon punto di preparazione, sia pure con qualche schema ancora da registrare. La Juventus è piaciuta di più nella ripresa quando Trapattoni ha sostituito Ping e Mauro con Bonini e Pacione. Qui al quarto d'ora Platini, poi c'è l'intervento di Amodio, Laudrup e Di Leo che manda in angolo. Alla mezz'ora in azione Agostinelli per Diaz il suo tiro va fuori di poco. 42esimo ancora in azione Agostinelli, Diaz, poi l'intervento di Scirea, il tiro di Bertoni fuori. Juventus qui in azione al 45esimo, Platini lancia Laudrup, avanza Laudrup e il suo tiro viene ribattuto da Di Leo. Passiamo al secondo tempo, all'ottavo si sblocca il risultato con il gol della Juventus. Qui Cabrini che lancia Serena, bellissimo il suo stacco di testa e il gol per la Juventus, 1-0. 24esimo, Mauro dà il via a quest'azione che Platini prosegue lanciando Pacione, ma Pacione sbaglia di poco. Al trentesimo sempre della ripresa, un'azione dell'Avellino interessante da Ferroni a Diaz e la ribattuta di Tacconi. Ho concluso da Torino. Passiamo adesso al successo del Napoli sul Como per 2-1. A te Luigi Necco. Il Napoli si è seduta tra le grandi, ma nel secondo tempo aveva applicato il verbo alla lettera. Comunque per l'allenatore Bianchi incontrare il suo ex Como non era un problema solo sentimentale, ma anche pratico. Maradona non è al meglio, qualche altro uomo importante non è in forma e gli manca ancora qualcuno in difesa. Per il Como, questione di sfortuna. Avete visto che i tifosi del Napoli credono nella tranquillità, l'hanno detto con uno striscione. E siamo al 14esimo, il primo tentativo del Napoli che ci prova con Bagni, con Giordano. Scusatemi, era il primo minuto. Al 14esimo invece, altra azione del Napoli che evidentemente intende mettere alla prova tutte le sue possibilità. Prova Bagni, ribattuta e poi tocca a Pecci farsi imparare, anzi respingere la palla dal paradisi. Il Como non demorde, si dice così. Borgonovo va all'attacco, vedete come? Vedete Marino come è costretto a fermarlo. Sulla punizione, Dirseo, e il bel Dirseo applaudito a Napoli, passa dal Biero che quasi inganna Garella. Il Napoli torna all'attacco, siamo al 29esimo con questa bella discesa di Renica ex Sampdoriano che inganna tutti, impegna il portiere a paradisi, le sue mani non servono. Giordano è ancora la sua stagione, segna 1-0. E poi ancora il Napoli, azione Maradona, punizione per un fallo su Maradona, avete visto come Bertoni ha realizzato. 2-0 per il Napoli. Siamo al secondo tempo e il Napoli insiste in questo scambio Maradona-Celestini. Bertoni però non profitta di questa palla, viene anticipato, occasione perduta. Punizione di Dirseo, testa di Marino, autorete. È tutto per un Como sfortunato e per un Napoli che si ritrova. Bisogna dire che Maradona ha ricevuto il guerino d'oro per il miglior giocatore straniero. Ci conta per l'anno prossimo, questa partita non tanto. Bene, Nicco, e adesso passiamo al pareggio a reti inviolate, 0-0 fra Udinese e Torino. Maurizio Caligaris. Non tragga in inganno il risultato a reti inviolate, molte occasioni, calcio giocato. È una partita che si racconta soprattutto con le immagini, le vediamo. Eccole, il Torino ha giocato, gioca quest'anno a memoria. L'Udinese è sempre la bella Udinese di Coppa Italia. Per Bearzot, che era in tribuna, pensiamo, buona indicazione da parte dei giovani. Questo è un tiro di De Agostini. Qui Martina esce sul piede di Carnevale. Insomma, un primo tempo per l'Udinese, scetto a questa bellissima azione di Dossena, con Brini in angolo. Mentre a secondo tempo vedrà il Torino sugli scudi. Qui ancora l'Udinese, nella prima parte della gara, un tiro di Colombo deviato che passa alto. E poi lo stesso Colombo, dopo questo calcio d'angolo, vedete, tira in mezza rovesciata e la palla quasi va nel sacco. Secondo tempo, Junior in cattedra. Ecco un suo tiro. Questa è una sua punizione, deviata dalla barriera, che finisce sul palo. Poi è Schachner a mettersi più volte in luce. Un suo spunto è preda di Brini. Poi il centroavanti spreca due occasioni. Eccone una. Il cross e Schachner non riesce nella deviazione. Ancora Di Agostini, oggi è stato bravissimo. Un suo tiro viene deviato da Martina. E quindi c'è ancora un'azione del Torino. Vedrete come si snoda. Bellissima in un secondo tempo, che ha visto anche qualche giusto fischio del pubblico nei confronti dell'arbitro. Ma si chiamano quest'ultima azione. Granata e Schachner manda alto. Ho concluso. Montepremi del Totocalcio, buono tenuto conto la ripresa del campionato, è 10.178.133.654 lire. Non abbiamo le quote proprio segnate con cifre, perché essendo cominciate le partite alle 16, gli amici del Totocalcio hanno detto che ci vorrà ancora una ventina di minuti prima di avere i numeri proprio. Comunque le quote, secondo i loro calcoli, le prime impressioni, dovrebbero essere medio-basse, perché ha fatto 13.12. Medio-basse. Comunque le cifre le daremo nel corso del telegiornale delle 20, ovviamente. Concludiamo con una nota non molto lieta per quanto riguarda l'automobilismo. Molti di voi lo sapranno già. E' andata male per le Ferrari, per Alboreto, il Gran Premio a Monza della Formula 1 ha vinto proprio Prost, secondo Piquet, terzo Senna, poi Sührer, Johansson con la Ferrari è quinto e sesto è De Angelis. Alboreto, che è in ottava posizione, a sei giri dal termine ha dovuto fermarsi per noi al motore. Nella classifica mondiale, Prost con solida il suo primato, ha ora 65 punti contro i 53 di Alboreto e i 31 di De Angelis. Bene, abbiamo concluso questa prima edizione della nuova annata di novantesimo minuto. Come sempre, appuntamento a domenica prossima. Arrivederci e a risentirci. Grazie a tutti. Grazie a tutti.